buongiorno sono nove gradi e oggi andiamo a Bibione andiamo a vedere una gara di moto in spiaggia moto da cross voli e voli Bob Francesco che oggi è tutto tappato Jenny e Dario un saluto a tutti gli amici che mi seguono in più a tutti i miei amici di Sudamérica grazie siamo arrivati sui campi di Ara e adesso vediamo che fuori di Bibione c'è la prova di Gianni Scalpa Gregory dentro in un campo poi andremo in spiaggia 1 8 1 in partenza ecco siamo qua sulla pista provo speciale numero 2 di Bibione eccola stiamo aspettando stiamo aspettando Alexei che sarà del figlio del nostro carissimo Boldi vediamo quando arriva abbiamo Alexei sta mettendo a posto la moto abbiamo Nuno Stiamo Stiamo Siamo arrivati alla seconda prova, numero uno, e soprattutto il personale di servizio Comincerai a chiamarmi tra mesi 4 minuti e ricomincia la prova speciale Quindi pregherei di avvicinarvi perché noi stiamo ritornando a misurarci con la sabbia di Bibione Terzo e penultimo passaggio della giornata per quello che riguarda questa prova speciale Saluta Francia Siamo appena fatto la pausa pranzo e adesso andremo su a Codroipo a mangiarci Grazie 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 Gelato a Codroipo C'è anche il mercato Adesso andiamo a mangiarci un gelatino con un caffè Ecco questa sarebbe la famosa gelateria che abbiamo a Codroipo I gelati sono tutti chiusi Questi sono i sapori Hai il sapore al... Allora io voglio una palina di... Allora pausa gelato Non ce glielo io E' strano no? Accegliera dx v��etro Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.